3 punti, una autodoppiata, però tanta fatica. Sì, tanta fatica, eravamo un po' disorganizzati, però abbiamo portato i 3 punti a casa e quello era importante per essere davanti da soli. Avete fatto fatica a costruire l'azione, soprattutto al limite dell'aria? Sì, ci hanno difeso bene e abbiamo fatto fatica. Come ho detto prima, è stato difficile oggi. Però questo può servire anche da lezione, perché anche con le squadre di bassa classifica la partita bisogna approcciarla sempre al massimo. Settimana scorsa abbiamo fatto fatica con la Real, loro hanno battuto l'Enterprise, quindi ogni partita è una finale per noi adesso, quindi tutto è difficile. Perfetto.